E' andata avanti anche in questo mese di agosto l'opera di manutenzione negli oltre 150 km di corsi d'acqua gestiti dal Consorzio 2 Alto Valdarno. 1,2 milioni di euro di investimenti per interventi meccanizzati e manuali nel territorio di Montevarchi, San Giovanni Valdarno, Cavriglia e Castelfranco Pian di Scò. Nelle prossime settimane altri cantieri si apriranno in Valdambra e nei territori di Loro Ciuffenna, Terra Nuova Bracciolini, Laterina e Pergine Valdarno, poi toccherà all'Arno. Grande attenzione soprattutto per le aree collinari dove la manutenzione è fondamentale per ridurre il rischio idraulico. Devo precisare che i lavori sono iniziati a partire dal primo di luglio perché fino al primo luglio c'era il blocco dei tagli e quindi non era pressibile intervenire sull'albero fluriale proprio per garantire l'anificazione degli uccelli e della fauna selvatica. Per quanto riguarda il Valdarno abbiamo investimenti per 1.200.000 euro, sono circa 150 km di corsi d'acqua che verranno manutenuti da ora fino alla fine dell'anno. Circa 400.000 euro verranno non gestiti direttamente dal Consorzio di Monifica ma dall'Unione dei Comuni del Prato Magno. E questo come prevede la legge 79 attraverso una convenzione che appunto abbiamo stipulato con l'Unione dei Comuni. Nel versante fiorentino sono già interessati dai lavori comuni di Figline, Incisa, Valdarno e di Reggello, mentre a breve partiranno i lavori anche nel comune di Rignano sull'Arno e nel comune di Pelago. Invece nel versante aretino sono addirittura d'arrivo i lavori a Montevarchi, a San Giovanni Valdarno, a Cavriglia e a Castelfanco Piandisco. Mentre partiranno nei prossimi giorni i lavori a Castiglion-Fibocchi, a Lorociuffenna, a Terra Nuova Bracciolini e a Laterina per Ginevaldare. Al momento siamo circa alla realizzazione di un 30% dell'importo complessivo e il rimanente 70% verrà terminato, così come ci chiede la Regione Toscana, entro il 31-12. L'unico intoppo nei lavori si è avuto a Faella. Gli uomini del Consorzio si sono infatti imbattuti in una pianta aliena. La pianta è il Poligono del Giappone, una pianta chiaramente di origine orientale, come dice il nome, invasiva, aliena, che non ha competitor a livello ambientale delle nostre latitudini e che mina, da un punto di vista ambientale, la biodiversità del corso d'acqua, occupando completamente ogni spazio ed ogni volume. E allo stesso tempo mina a livello strutturale la struttura arginale dei corsi d'acqua, in quanto l'apparato radicale attraversa completamente l'argine, potendo permettere anche dei sifronamenti, quindi impedendo all'argine di fare il proprio lavoro. Questa pianta, come vi dicevo, non ha competitor a livello delle nostre latitudini ed ha una propagazione molto importante all'interno del corso d'acqua. Si può riprodurre per spore, per talea e per rizoma, per cui va gestita in maniera molto accurata. Abbiamo trovato il sistema di limitare, non di abbattere la popolazione di piante, ma di limitare la propagazione di questa pianta infestante, affrontando il suo taglio durante il riposo vegetativo, per cui nel periodo che va da ottobre a febbraio.